in contenitori chiusi di cemento o di acciaio inox in atmosfera satura di anidride carbonica questo sistema seppur ingegnoso oneroso e teoricamente interessante non ha dato i risultati sperati dimostrando i limiti dell'anidride carbonica come inibente di trasformazioni indesiderate in una massa di vinaccia e di conseguenza è praticamente stato abbandonato in contenitori aperti di cemento possono essere vasconi interrati o sopraelevati chiusi su tre quattro o cinque lati in quelli con una sola apertura verso l'alto la vinaccia viene scaricata e poi sistemata e compressa manualmente nei silos chiusi solo su due o tre lati si utilizzano invece ruspe sia per la stratificazione sia per la compressione a silos pieno in entrambi i casi si copre il tutto con teloni di nylon sui quali viene disposta sabbia o altri pesi per mantenere il film di copertura aderente alla massa della vinaccia quando si distilla si procede al prelievo per strati orizzontali se si opera su silos il cui sviluppo maggiore è in altezza o per tagli verticali se il silos è sviluppato in lunghezza lo strato superiore di vinaccia quello a contatto con il telo viene normalmente attaccato da muffe e quindi accuratamente eliminato il sistema di insilamento con vasche o bunker in muratura è il più tradizionale i silos possono contenere da alcune decine di quintali di bucce d'uva a migliaia di quintali negli ultimi lustri alcune distillerie hanno cominciato a rivestire le dei silos con vernici epossidiche per migliorare l'igiene è infatti molto importante a fine campagna eliminare ogni residuo di materiale organico e procedere ad una drastica sanificazione operando con detergenti clorattivi a schiuma ancorata in tunnel di materiale plastico con la compressione della vinaccia al loro interno è la tecnologia più innovativa nata con un brevetto degli anni 90 apposite macchine che ricevono su un nastro la vinaccia dove viene irrorata con coadiuvanti per ripristinare il patrimonio acidico e dotarla di lieviti selezionati e poi la pressano dentro tunnel di materiale plastico alti come un uomo che possono contenere anche 300.000 kg di materia prima se il sistema è utilizzato correttamente si genera un ambiente anaerobico a ph basso che consente di fare fermentare la vinaccia in modo ottimale e conservarla anche per mesi grazie mille grazie mille grazie mille